Oggi è domenica 16 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 16 giugno 1963. È mattina presto. Dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan parte la Vostok 6. A bordo la prima donna a volare in orbita, Valentina Tereskova, 26 anni. Orfana di padre, lavora in fabbrica e ha un'infanzia difficile. Dopo il lavoro frequenta le scuole serali e corona il suo sogno di far parte del primo gruppo di donne cosmonaute. Il suo volo in solitaria dura 70 ore e 50 minuti. Compie 49 orbite. Solo dopo 30 anni, alla morte del responsabile dell'errore, Tereskova racconta il segreto della sua missione. Alla trentesima orbita il controllo di volo scopre che per un errore di calcolo la Vostok 6 si sta allontanando dalla Terra, rischiando di perdersi nello spazio. In più, l'essere legata al sedile con tuta e casco in un abitacolo minuscolo e il cibo non ottimo la fanno stare male. Per fortuna da Terra arrivano i codici corretti per il rientro, ma poiché la navicella non è fatta per assicurare la sopravvivenza dopo l'impatto, la cosmonauta viene lanciata fuori con il paracadute. Impattando a Terra, sbatte la faccia contro il casco e si ferisce. Deve essere ricoverata in ospedale, ma subito dopo viene riportata nel luogo di atterraggio per essere immortalata dalle telecamere con una tuta nuova e sorridente. La sfida tra Unione Sovietica e Stati Uniti per la supremazia nello spazio richiede anche la giusta immagine. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per iniziare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.